Ah, ragazzi, ma ci state pure voi? Perché non sei contento di vedere, Cecilia? Ecco, non sono contento. Senti, Cogliandro, mi piacerebbe far parte del team. Minchia, certo che mi piacerebbe. Però per entrare devi superare una prova, te la senti? Cioè, che devo fare? Lo sai questo che è? Eh, che è? È una bomba a mano. Buttala, 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 buttala. Oddio, sono paralizzato dalla paura. Non riesco a muovere il braccio. Pare che c'è un ictus. Buttala, 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 buttala. rä Senti, azzottla, buttala, 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 buttala..